Andrò dritto al punto, Roy, sei mai stato in riabilitazione? Io sono tra... Roy, Roy, non mi importa. Ho detto sei mai stato in riabilitazione? No. Sai, ci sono nei bastardi davvero fuori di testa persone accusate di rapina a mano armata, tentato omicidio, roba davvero pesante, cazzotti figli di puttana. È vero. Ci sono stata una volta. Era spaventoso. Sai che succede quando passi un lungo periodo di tempo in riabilitazione? Tendi a fare amicizia con quei cazzotti figli di puttana, quindi sarò molto chiara con te. Se solo provi a superare la prima base con mia sorella o la fai sballare di nuovo. Io chiamo Omar, chiamo Marlo, chiamo Evon, chiamo fratello Muson, chiamo anche Bodhi e chiamo Stringer e dico a quei figli di puttana di piazzarsi fuori dal tuo giardino. Hai capito? Ho anche WeeBay. Ah, al cento per cento. Sai che tipo di gianta è? Quella gianta che ti spoglia nudo come un verme e ti tortura con pinza e fiamma ossidrica. Hai presente? Non credo che abbia capito. Io non credo che abbia capito. Dille che hai capito. Ho capito. Ecco. Ora torna lì e dia alla mia sorellina che è carina. Gia, volevo dirti che sei molto carina stasera. Davvero? Sì, davvero. Vuoi qualcosa da bene o da mangiare? No, io non c'è. Non c'è l'acqua. Non c'è l'acqua. A fuoco. Sì. Io non c'è l'acqua.